Salve Comodori, sono le 3.17 di mattina, fra 6 ore mi sveglio, però giustamente sono qui a fare un video per Elite, perché martedì non voglio saltarlo. Quello che voglio fare oggi è sbloccare, grazie all'aiuto immenso di Noir King, uno degli ingegneri di Colonia, che mi mancano, perché ne ho fatto, se non sbaglio, uno solo. Quella che avevo sbloccato io era la fattona chiamata Domino Green. Una volta che gli ho portato 5 dosi di Push, per quella è una fattona, lei mi ha sbloccato ovviamente altri ingegneri. Quello che andremo a sbloccare adesso è Kit Fowler, come è da titolo, e per farlo ho bisogno di 10 Opinion Polls. Allora, dove si trovano gli Opinion Polls? Nei sistemi di turismo. Eccoci qua, Comodori. Allora, il sistema che mi ha consigliato Noir King si chiama Full Rene, scritto proprio Full Rene, scusate, C60. Perché questo sistema? Perché in questo sistema, se andate su System Up, cliccate sul... Mi interdicono? Non facciamoci interdire, via. Almeno proviamo a non farci interdire, perché mi sono pleggiato. Pierre mi ha fatto pleggiare. Ovviamente sei a fare un video tutto tranquillo alle 3 di mattina? No, anche l'interdizione deve venire. Quanto sono con una DB senza nulla in cargo, che semplicemente mi faccio i fatti miei su un sistema turistico. Proprio le robe che non devono cadere mai. Eccoci qua, interdizione vedita. Allora, riprendiamo a girare intorno a Bedi In. E mentre siamo in orbita vi faccio vedere appunto che a Bedi In la cosa buona è... Perché non è... Ok. Orbiting Destination. Dicevo, andando su System, cliccando sul penultimo... C'è anche il mouse. Qua vediamo che sono tutti sistemi. Settlements di Odyssey, in questo caso perché sono blu, turistici. Quindi noi andiamo su questo Bedi In, che è quello che mi ha consigliato vivamente Noir King e mi figlio ciecamente di lui. Paparapapà. Ok, deactivate. E adesso noi ci andiamo in stilt. Non voglio farmi beccare. Quindi proviamoci, ovviamente. È notte perché è sempre così quando uno registra un video tutte le sfighe arrivano insieme, però guardate che bella atmosfera. Andiamo a Bedi In. Una volta che siamo arrivati a Bedi In, noi andremo a sbloccare il successivo ingegnere. Perché? Io ho sbloccato. Domino Green l'ha fatta una dei push. E una volta che gli ho portato 5 push a Domino Green, lei mi ha sbloccato altri 3 ingegneri. Mi ha sbloccato, mi ha dato la conoscenza. Mi ha fatto sapere che ne esistono altri 3. In questo caso noi andiamo da Keith Fowler e Keith Fowler cosa vuole? 10 Opinion Polls. Questi Opinion Polls appunto si trovano in un sistema turistico dove sto andando adesso. Scusate, mi sono un po' incasinato, ma è la seconda volta che registro il video. Non mi ricordo quello che ho detto prima. Solo ai 3 di mattina abbiate pietà, non sto dormendo niente. Allora, noi andiamo a sbloccare Keith Fowler con 10 Opinion Polls. Una volta che gli abbiamo portato questi 10 Opinion Polls, lui vorrà altra roba per darci altri ingegneri. Eccoci qua, Dropping from Orbital Cruise a quanto? 70 km, dai l'ho presa abbastanza bene. Andiamo a parcheggiare. Vicino, ma ovviamente senza toccare dentro la stazione perché noi andiamo a rubarli questi Opinion Polls. Quindi bisogna fare tutto in stilt. Vediamo se mi riesce o se mi scuccano. Lascio a voi, anzi ad Alfetto che mi mancano i soldaggi di Alfetto su Twitch. 12 km, ok. La visuale notturna che almeno sulla nave ce l'ho. Mi ha appena fatto vedere lui il modo più comodo e funzionale di fare sta roba. Prima di tutto adocchiamo dall'altro dove è l'edificio più grande di tutti perché partiamo da lì. Che è un edificio dove non serve alcun tipo di codice per entrare, altrimenti ci sono codici 1, 2 e 3. Non andiamo troppo vicino, stiamo attenti. Eccolo lì l'edificio più grande, è proprio dove c'è la scritta Bedi. Dato che siamo su un piccolo Diamondback, no l'autolanding non lo voglio, l'autolanding non lo voglio, mannaggia. Togliamo l'autolanding, no, autolanding, 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 off. Ok, tolto l'autolanding. Ci avviciniamo. Questo di fronte al mio muso è l'edificio più grande. Ce ne freghiamo di quella nave che è a terra. Mettiamo la tuta giusta che è la tuta da scav perché ci serve il pistolino e andiamo. Vediamo se sono fortunato. Questo sistema è buono per la gravità, ma anche perché è 0.04. Non essendo molto alta noi possiamo saltare un bel po'. Perché questo ci serve per le missioni in stilt? Perché le persone del settlement, se voi siete sopra i tetti o sopra qualche cosa, si vi vedono ma non vi scansionano. Quindi sempre un occhio al radar in alto e sinistra e cerchiamo di non farci scuccare. Ok, lì davanti anche senza radar vedo che c'è qualcuno ma è di spalle e ora non abbiamo ancora alcun tipo di taglia. Quindi anche se ci vedono, chi se ne frega. L'importante è che se mi vedono ora e mi dicono fermati, mi devo scansionare, io mi devo fermare. No, nessuno mi sta scansionando. Entriamo nel primo edificio. Salve. E andiamo a cercare questi benedetti data. Eccoli qua. Premiamo E. E qua vedrete che ci sono dei data viola che sono illegali. Non li scaricate se no scatta l'allarme. E degli altri data, come in questo caso questi tre, dove non scatta l'allarme. Questi sono legali. E niente, quindi da questo primo edificio non abbiamo trovato nulla. Aspettiamo che finisca la scansione. Finita la scansione, lo scaricamento. E a questo punto bisogna entrare negli altri edifici, che richiederanno, non avendo un bello zero sul davanti, qualcosa, un grado per entrare. Ora sbattiamo sui tetti. Quindi come si fa? Si va proprio sul tetto di questo edificione. Si tira fuori il nostro scan. Si pireme R, in modo da usarlo in maniera illegale. E andiamo a scansionare qualcuno che sia di livello 1 o 2. Quelli camminano, quindi è scomodo. C'era il barista. Eccolo lì. Questo è di livello 2, perfetto. Perché non me lo fa scansionare. Ok, perché era lontano. Ce l'ho fatta. Ora io ho il livello 2. Non voglio ammazzare nessuno. Quindi scendo con questa pistolina. E andiamo, non ho la visione notturna, purtroppo, sugli altri edifici. Cercando di stare sul tetto degli altri edifici, in modo da non farci vedere. Ok, perfetto. Vedo che c'è qualcuno lì sulla destra. Ce n'è uno lì sulla sinistra. Ok, quello là è di spalle. Quindi non vedo altri sul radar. E invece sì, eccolo lì. Se loro ora mi scansionano, si arrabbiano. Quindi devo aspettare che passi, che si allontani un pochino. Fatto ciò, scendo dentro. E quelli dentro li posso ammazzare. Però per ammazzarmi i stilt, dato che non hanno la barriera, che sono medici, si tira fuori questa pistolina che è quella dell'energy. E sempre con il tasto R, pam! La Sia. Ah che era, ok, lui è passato. Quindi scendiamo. Entriamo dentro. Tiriamo fuori la pistolina. Sempre un occhio alla mappa, ok, sono due. Ok, ovviamente se qualcosa poteva male, andava male. Lei l'ho ammazzata. Ma mi hanno anche ammazzato. Quindi, rifacciamo tutto da capo. Buonasera, comodori. Siamo al giorno dopo. Sono qui che sto continuando a provare, a trovare questi cacchio di opinion polls. Di solito si trovano subito. Newarking mi ha fatto vedere. È sceso, ne ha trovato uno immediatamente. Io ho fatto tipo, boh, 3,14 periodico run e ancora non ho trovato nulla. Dato che ne ho fatte così tante, però vi faccio vedere come si fa. Perché rispetto a ieri sera, almeno qui c'è un po' di luce. È giorno e dovrei farlo abbastanza velocemente. Poi, se c'è una botta di culo incredibile, trovo anche gli opinion adesso, in diretta, con voi. Vediamo. Nave piccolina, così si parcheggia proprio attaccati. Si sfonda la nave, scado il parcheggio. E quindi nulla. Come prima cosa si va senza commettere alcun crimine in questo grosso. In modo che così ci facciamo scansionare una prima volta e passerà un po' di tempo prima della seconda scansione. E poi avessimo una botta di culo incredibile, comunque qua. Niente. Foto album, lo scarichiamo. Fatto ciò, andiamo a rubare l'identità a qualcuno di questi gentili signori dal tetto. Tasto 4, R, ci accofacciamo. Aspettiamo che qualcuno si fermi. Ai bar! Se no c'è da impazzirci. Forse lui. Sì, è a portata. Basta anche un profilo 1, eh, di qualità. Ok, ora che abbiamo il profilo, abbiamo sostanzialmente tre hub qui a destra e due hub lì a sinistra. Partiamo qui a destra. E che Dio ce la mandi, buona! Date sempre un occhio al radar quando vedete che la persona è lontana. Conviene fare così. Anche se è lì, scendete. Due bustini, in modo da entrare quasi bustando, vi accovacciate. Tasto 3, tasto R. Pronti a fare fuori immediatamente chi è qua dentro. Ecco, mancato. Mancato di nuovo e adesso arrivano, ovviamente, faccio il video e faccio le cartellate. Fermati, ok. Ora ci sta che arrivi qualcuno. Perché ho sparato una bazookata. E noi attendiamo, felicemente, se c'è qualcuno. E sono morto! Non ci credo! Che cazzo! Ho fatto tremila volte senza mai morire, registro e muoio. Le gioie. Anche sta cosa che quando si attivi che disattivi la shield è come se ti si accendesse sempre, per me è una cazzata. Quando la disattivi non si dovrebbe vedere lo schermettino blu. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Sì 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 Pia, vuoti, medichitti, fanculo. 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 Eccolo lì. Vedete, è tutto nero, si vede male, ma è quello. Ora si vede un po' meglio. Parcheggiamo con landing gear. Scendiamo con la tuta da scav. tra l'altro dove c'è questa enorme parabola e dove c'è CMD Commander e dove c'è l'allarme. Ok. livello 2, mi interessa, è giusto. Vabbè, dai. C'è una porta 2 da aprire e una porta 3. Quindi rubiamogli il profilo al 2. andiamo a cercare questi Weapon Schematics. X. Come dicevo prima, mi raccomando, non prendete quelli viola, se no scatta un'allarme. In questo caso non lo vogliamo. Vediamo se ho la botta di culo che ho avuto prima e li ho trovati qua dentro. Personal Documents. Gmeds. Inside. Qua non ci sono e prima li avevo trovati proprio qui. Quindi non lo rifaccio un altro video e li trovate qua se ci sono. Ovviamente io ora il Gran Premio della sfiga non li trovo. Però qui dentro questi armadietti accanto all'allarme che potete anche disinserire che si trova se non sbaglio qui. Ma disinseriamolo. Disable Alarms. Però non mi interessa, un po' di grafene va bene. Insomma, è sfiga. Lì dietro vi assicuro che trovate i Weapon Schematics. Ora, una volta che avete 5 Weapon Schematics, quello che dovete fare per sapere dove si trova l'ingegnere è vendere i benedetti Opinion Polls. Perché se non vendete gli Opinion Polls voi non sapete neanche dov'è l'ingegnere. Scappiamo via. Abbiate pietà conoscendo la fortuna che ho, ci starei altre 8 ore prima di trovare un altro Weapon Schematics. Perché la Frontier lo sa ed ha del sadismo verso di me. Mi ascolta peggio di Alexa. Quindi dato che lì ho percentile donazione di Noir King. Sto registrando vero? Sì, sto registrando. Vado da questo benedetto ingegnere. Dicevo, se venite qua voi non lo vedete dov'è il simpaticissimo Kit Fowler. Perché dice, you gain access to Kit Fowler by selling 10 Opinion Polls to Bartenders. Quindi andiamo al sistema qua. Che è un, mi ricordo come si chiama, Metcalf Ring. La base che c'è qui su Yabulu. Vendiamo sti benedetti 10 Opinion Polls. Vediamo se è ancora buggato. Che io dovevo sloggare e riloggare. Tra l'altro ho dovuto sloggare e riloggare su Horizon l'ultima volta che ho sbloccato un ingegnere del genere. Dato che ho un sacco di taglie dei targoidi e ne sa qualcosa Noir King, non lo fate mai. Se avete le taglie dei targoidi e le state tenendo perché su Odyssey non vanno perse e loggate su Horizon e morite poi le perdete. Quindi per non correre il rischio, no, non vi conviene. Ci vediamo a Metcalf Ring, la Bartender. E' così. Eccoci a Metcalf Ring e adesso andiamo dal benedetto Bartender. Dov'è il bar? The Lounge. Ora, barista... Non fare scherzi, eh, perché... Ho qualcosa che devi offload. Ho qualche item. Tu... Sell... Andiamo giù. M... M... O... Ok. Ho preso un colpo. Sono data. Quindi il terzo del menu. Eccole qua. Opinion Poll. Dieci. Dieci. E ne ho proprio dieci. Per... Cinquemila crediti. Cioè io ho venti miliardi in questo momento nell'account. Però ho tutta sta fatica per cinquemila crediti. Ok. Va bene. E quindi... Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. No, cinquantamila. Cinquemila l'uno. Ci arricchiamo qua, eh. Ok. Confirma. Sale. Eh. Ci credo. Figlia mia. Valteli a farmare te gli opinioni un po' l'accidente a te. Ok. Ora... Goodbye. Andiamo sulla nave. E dovremmo trovare sbloccato il nostro amico geggeniere. Spero vivamente. Se no... Sfascio il computer. Potevo vederlo anche da... A piedi però siccome voglio andarci di persona. Vediamo. Se c'è... Se dobbiamo sloggare. Ingegneri. Ovviamente no. Perché questo gioco è un bug totale. You gain access to kit follower by selling ten opinion polls to bartenders. L'ho appena fatto. L'ho appena. Maremma. Vediamo se me l'ha venduto. Magari non me l'ha nemmeno venduti. Allora. Data. Opinion polls. Sì, ma giusto per farci venire il patema d'anima. Io non ce l'ho più gli opinion polls, però l'ingegnere ovviamente da qui non si vede. E quindi che si fa? Si slogga e si rilogga. Col cavolo che vado su Horizon anche se non dovrei morire perché non devo fare nulla. E... Speriamo bene. Quindi... Exit. Exit to main menu. Andiamo in solo. Che palle ragazzi. Un video senza bug non c'è verso di farlo. Continua. Entriamo in solo play. Attenzione. Un messaggio. Invitation from Keith Fowler. Eccolo lì. Fila ironia. I've been making credits from the thoughts of the people. Not usual these days. Immoral, but not unusual. I run a workshop in the cap... ... system. Stop. By what they are standing. Arrivo. Amore. Arrivo. Ti vendo anche gli weapon schematics. E... E poi chiudo sto video che è stato un parto. Quindi qui Keith Fowler vedete. Finalmente dice... Keith Fowler share knowledge of another engineer in exchange for five surveillance equipment. Ok. Non surveillance equipment. Ma ce l'ho. View on galaxy map. Ci fa vedere dov'è. Sono due salti in padella e noi ci andiamo direttamente. Ci vediamo da Keith. C'è un bel doppio giro della vergogna. The Last Call è la base dell'ingegnere. Ovviamente sarà al buio. Forse no. Magari vediamo l'alba o il tramonto. E finalmente docchiamo... Touchdown confirmed. Dispatching ground crew. Un'altra buglie! So! ersi. Grazie a tutti. Dove sei, maledetto? Apex, non voglio i taxi, voglio l'ingegnere! Eccolo! Che lui ha messo bene, eh? Ciccio, fai un paio di occhiaie, vabbè. Benvenuti a mia base, comando. Grazie. Sto facendo un testo di background e un scan biometrico per te, i risultati di cui saranno stessi localmente. Se hai problemi con questo, puoi lasciare. Ovviamente, non c'è nulla che devi scendere da me, certo? Tipo TikTok. Allora, andiamo e... I'd like you to introduce me to another engineer. E per fare ciò... E noi ce li abbiamo già, quindi... 10 avvailable, ma tanto io gliene do 5. Tu contribuzione per la mia personalità è notata, comando. Scusate. Ci sono molto poche persone in questa galaxia che mi confio. Yarden Bond è uno di loro. Quindi adesso abbiamo anche Yarden Bond. Non stiamo a vedere le ingegnerizzazioni, cosa ci vuole. Lui comunque fa per le armi Magazine Sides, che è fondamentale perché, soprattutto, se andate con lancia granate vi dà dei colpi in più. Stowed Reloading anche, che vuol dire che quando mettete l'arma dietro ve la ricarica mentre voi siete a sparare con l'altra. Extra Ammo Capacity nelle suite, nelle tute. Ok, quindi questo è quello che vi dà più colpi. Faster Sheer Gen, Added Male e Damage, non ce ne frega nulla. Comunque, questi li vedremo in futuro. Intanto, grazie, Noir King, per gli opinion polli avermi spiegato passo passo come fare sta roba. Sir Vecchio per la compagnia. E questo video lo chiudo qua. Grande Sir Vecchio. Hai fatto sentire anche te, Noir King? Se non stai mangiando. Ciao, ciao. No, lui beve il tè. Giustamente. Il tè delle cinque, no, sono ancora le tre. Il tè delle tre. Allora, Commodore, grazie e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.